Oggi parleremo della preghiera, ancora la preghiera, cosa possiamo utilizzare, cosa possiamo usare per aiutarci in preghiera, per imparare a pregare e per essere aiutati in preghiera, anche perché anche il tempo da dedicare al Signore in preghiera è importante, cioè ci vuole, si deve dedicare anche un po' di tempo in preghiera al Signore, cioè non si può terminare ogni preghiera ogni volta con 5-10 minuti, un quarto d'ora, c'è il momento in cui va bene, ma c'è il momento in cui nella giornata ci si deve prendere il proprio tempo per andare a incontrare il nostro Dio in preghiera, quindi oggi il titolo della predicazione sarà i salmi come aiuto per pregare. Cominciamo subito, abbiamo visto che la preghiera è espandere la propria anima davanti a Dio, abbiamo visto che ci dobbiamo prendere il nostro tempo, ci dobbiamo rinchiudere nella nostra cameretta, nel nostro luogo segreto per andare a rincontrare il nostro Dio, chiudendo, lasciando il mondo, tutte le cose di questa vita che ci possono disturbare, lasciandole all'esterno, affinché niente e nessuno ci possa disturbare dall'invocare il Signore. E naturalmente abbiamo visto anche le cose da chiedere a Dio, le cose da, come era strutturata la preghiera. Ecco, partendo appunto da determinate, dalla struttura che abbiamo detto, prima dobbiamo rivolgerci con la lode, dando gloria, individuando in modo perfetto e preciso chi stiamo adorando e chi stiamo andando ad incontrare. Lì Dio che ha fatto i cieli e la terra. Poi dobbiamo riconoscere i nostri errori, i nostri peccati, ringraziarlo e altre cose. Ecco, guardando questa struttura noi vediamo che un aiuto per pregare lo possiamo trovare nei salmi. Cioè, è quella raccolta di cantici e sono anche preghiere, quindi sono sia cantici che preghiere. Noi oggi li esaminiamo dal punto di vista della preghiera, però se vengono anche cantati non è sbagliato, anzi sono appunto anche dei cantici. Però noi li esaminiamo dal punto di vista oggi della preghiera come ausilio per le nostre preghiere. Abbiamo detto che quando ci mettiamo in preghiera la prima cosa da considerare a cui dobbiamo rispondere nella nostra preghiera, cioè per sapere come strutturare la nostra preghiera, come cominciare, è, vi ricordate, la preghiera del Padre Nostro, quindi Padre Nostro inizia così, la nostra preghiera deve iniziare così. Queste parole ricordatevele, questo è l'inizio della nostra preghiera. Padre Nostro, nel senso che dobbiamo ben individuare qual è la nostra situazione davanti a Dio, quindi Padre e noi siamo figlioli, perché siamo figlioli, cosa ha fatto Lui per noi e cos'è, chi è il nostro Padre Celeste, chi è il nostro Dio? Ecco, l'iddio, ci sono tanti passaggi nelle scritture che ci possono ricordare, chi è l'iddio che noi invochiamo, chi è il nostro Padre Celeste che ci ha salvati? Chi è? Chi è? Cosa ha fatto? Quali sono le sue opere? Ebbene, oggi voglio prendervi il Salmo per aiutarci, ecco, dopo che abbiamo pregato liberamente e vogliamo ancora continuare, vogliamo imparare a pregare, vogliamo continuare a pregare, ad esempio, io vi citerò dei Salmi, quelli che ho voluto scegliere, come esempio, naturalmente poi ognuno, in base ai propri sentimenti, alle sue conoscenze, ai suoi desideri, può scegliere i Salmi o le preghiere che sono nella scrittura come meglio, come lo spirito lo guida, cioè non è che adesso si fa esattamente secondo come io darò questa linea guida, ma è un esempio, questo sarà un esempio, non sarà citato tutto, saranno citate soltanto determinate cose, per farvi capire come deve essere strutturata e come trovare aiuto nelle Sacre Scritture, nei Salmi, per poter pregare, imparare a pregare come piace a Dio. Ebbene, abbiamo detto che quando ci ritiriamo nella nostra cameretta per invocare il Signore, per pregare Dio, ci dobbiamo rivolgere al Padre, ci dobbiamo rivolgere a Dio, all'Iddio che ha fatto i Cieli e la Terra. Se prendiamo il Salmo 136, questo ci può aiutare a ricordare e a capire meglio chi è l'Iddio che noi invochiamo. Quindi se prendiamo il Salmo 136, leggiamo queste parole, queste parole che noi leggiamo, ma adesso è come se noi, poi le spiegherò, come se fossero una preghiera. Quello che si deve, aiutandosi con le scritture, che è quello che poi si deve pregare il Dio, quello che si deve chiedere al Signore, lodare il Dio e capire bene a chi noi ci stiamo rivolgendo in preghiera. Salmo 136 Ecco, queste sono caratteristiche del nostro Dio. Egli vuole che lo celebriamo, gli rendiamo gloria. Perché? Perché Egli è buono. La sua benignità dura in eterno. Questo non vuol dire che Dio, che la sua benignità sopporta e tollera il peccato, ma vuol dire che se chi va a Lui, Egli lo accoglie. Se va con un cuore sincero, contrito, che invoca il Dio con tutto il suo cuore, si pente dei suoi peccati, ecco che viene accolto. Perché Dio è misericordioso, Egli è benigno. E ancora nel Salmo leggiamo queste parole. Celebrate l'Iddio degli dèi. Cioè, l'Iddio che noi invochiamo, che è quello che ha fatto i cieli e la terra, è l'unico Iddio. Non ci sono altri dèi. Non ce ne sono altri dèi. Ci sono dèi chiamati dagli uomini. Ma l'unico Iddio è l'Eterno, l'Iddio Onipotente, che ha fatto i cieli e la terra. Questo è l'Iddio che noi invochiamo. Il Signore dei Signori. Egli è il Signore dei Signori. Celebrate il Signore dei Signori. È a capo di tutto. Poi il Salmo dice ancora, Colui che solo opera grandi meraviglie. Il Dio è colui che compie ogni giorno grandi meraviglie. Colui che fa spuntare ogni albero, ogni filo d'erba che fa spuntare. Le nuvole che si muovono nei cieli. I pianeti che si muovono nell'universo immenso, che non è neanche misurabile. Tutte le cose, tutte le leggi della natura che si muovono con una forza, con un'energia precisa, perfetta, che manifesta qual è la sapienza, la grandezza del nostro Dio che ha fatto ogni cosa. Capite? Il nostro Dio ha fatto meraviglie. E questo Salmo, se uno prega leggendo questo Salmo, si ricorda quindi di chi è il nostro Dio, che cosa ha fatto il nostro Dio. Ancora il Salmo dice colui che ha fatto con intendimento i cieli, colui che ha steso la terra sopra le acque, colui che ha fatto i grandi luminari, il sole per regnare sul giorno e la luna e le stelle per regnare sulla notte, colui che percosse gli egizi nei loro primogeniti e trasse fuori Israele dal mezzo di loro. Vi ricordate quindi, quindi leggendo questo Salmo in preghiera, ci ricordiamo chi è il nostro Dio. Il nostro Dio è colui che ha aperto il Mar Rosso davanti al popolo di Israele per farlo uscire da quel popolo che lo teneva schiavo. E lo ha percosso quel popolo che teneva il popolo di Dio schiavo e prigioniero è stato percosso dalla mano potente di Dio, è stato punito. Le sue piaghe, le sue punizioni sono scese contro quel popolo perché non poteva trattenere e maltrattare per sempre il popolo del Dio vivente. E lo ha, è venuto il momento, c'è un tempo in cui sembra che il popolo di Dio è prigioniero delle tenebre, è prigioniero di certa gente, di certi servitori malvagi. Ma poi, come venne ai tempi di Israele, viene il momento in cui il popolo di Dio viene liberato. E oggi, appunto, stiamo assistendo a questo. Il Dio sta liberando di nuovo, come allora, il suo popolo dalla falsità, dall'ipocrisia, da questi massoni, da tutti gli insegnamenti che non sono, secondo le scritture. Hanno molti insegnamenti di questi cianciatori, sembra che provengano dalla scrittura, ma sono contorti, sono delle falsità nascoste dentro la verità. Una verità che però arriva, che ha del veleno, non è verità, non è la verità della parola, ma alla fine è un veleno potente per anestetizzare i santi e fargli perdere la via, la concentrazione, per farli distrarre su altre cose che non è la parola, che non è la volontà di Dio. E ancora oggi Dio sta liberando. Quindi noi pregando, leggendo queste scritture, ci ricordiamo di questi concetti e cosa facciamo? Invochiamo il Dio e gli diciamo Signore, libera il tuo popolo, liberalo! Liberalo, che coloro che sono schiavi di queste organizzazioni, di queste denominazioni, libera il tuo popolo dalle falsità, dalle menzogne, dal rituale vuoto, inutile, che non serve a niente. Liberalo, il tuo popolo, da queste cose. Libera il fratello, libera la sorella, affinché ti possano rendere un culto con tutto il cuore, sinceramente, a casa, nelle proprie case, ma liberali da questa prigionia e da queste catene. leggiamo ancora con mano potente e con braccio steso e trasse fuori Israele dal mezzo di loro, con mano potente e con braccio steso. Colui che divise il Mar Rosso in due e fece passare Israele in mezzo ad esso e travolse Faraone e il suo esercito nel Mar Rosso. Vedete, il nostro Dio è colui che ha steso il braccio, ha soffiato sul mare, sul mare, e si è aperto, non importa quant'acqua c'era, quant'era profonda, non ci mettiamo a utilizzare la scienza per determinare se la cosa era possibile o non possibile, umanamente con elementi fisiologici, con elementi fisici, con elementi di fisica. No, il Dio fa quello che vuole, Egli è potente da aprire le acque del mare, dell'oceano, di quello che Lui vuole. Ha aperto, là non c'era una via dove Israele poteva passare, ma il Dio li ha voluti liberare in quella maniera potente e gloriosa, affinché il suo nome sia glorificato per sempre. Infatti, ricordiamo ancora oggi quello che Dio ha fatto e questo è il nostro Dio. Stiamo dicendo queste cose perché dobbiamo ricordarci che cosa ha fatto il nostro Dio, qual è il Dio, qual è il Dio che noi invochiamo, chi è il nostro Dio, cosa ha fatto? Egli ha aperto una via per liberare il suo popolo, non lo ha lasciato in balia dei suoi nemici, il Dio non lascia in balia dei suoi nemici in nessuna maniera il suo popolo apre una via dove Israele non vedeva che c'era una via, lì non c'era nessuno ha pensato a quella via di fuga, a quella via di liberazione, eppure il Dio, vedete, fa quello che noi neppure possiamo pensare. Israele non poteva neanche immaginare che lì Dio potente e glorioso poteva aprire il Mar Rosso per farli uscire da lì e liberarli da coloro che li tenevano schiavi. Eppure lo ha fatto, vedete, come dire, vedete, il Dio è potente da fare quello che vuole per liberare il suo popolo, quindi noi uomini oggi non dobbiamo mettere alcun limite, non dobbiamo porre alcun limite alla potenza di Dio nel liberarci, nel liberarci dalle nostre distrette, dalle nostre malattie, da tutto quello che ci opprime, dai bisogni, dalle necessità di tutti i giorni, Egli è potente e glorioso e la scrittura è piena di opere potenti che Dio ha fatto e ha fatto molte cose che l'uomo non poteva neanche immaginare che si potessero fare, tra cui c'è questa del passaggio del Mar Rosso. Non importa, alcuni cercano di renderlo scientifico, è passato un po' qua, è passato un po' là, c'era la terra, era più, era meno profondo lì, ma tutti questi sono discorsi umani di gente che non ha fede, io credo che Dio possa aprire il Mar Rosso e anche gli oceani e fa quello che gli piace, quello che Lui vuole fare lo fa, non c'è niente che possa impedirglielo, nulla, perché Egli è Dio che ha fatto i cieli e la terra, ha fatto ogni regola a Lui che gestisce tutto il creato e Lui la può anche cambiare, fermare, come è successo a Giosuè quando fece una grande invocazione, quando invocò i Dio gli disse erano in battaglia contro i loro nemici, invocò e disse alla luna e disse a Dio, chiese a Dio di fermare la luna in un posto e il sole dall'altra affinché affinché quel giorno durasse più a lungo e così avvenne, quel giorno non durò ventiquattro ore, quel giorno durò molto di più, capite? Ma non è l'unica occasione, ce n'è stata anche un'altra col profetto Isaia, il Dio ha mosso al contrario la terra, capite? Se si studiano tutte le scritture, vi prenderete conto di quello che Dio ha fatto e che può fare, perché se lo ha fatto in passato, lo può fare anche adesso, cioè non è che adesso non lo può fare più, capite? Non è che adesso il Dio ha operato grandi cose gloriose e potenti nel passato, oggi non può operare più cose gloriose e potenti? Non le può operare più? No, le può operare come le ha operate in passato, il fatto che non le faccia non vuol dire che non le può fare, vuol dire che ha i suoi piani, i suoi disegni e li farà quando li vorrà fare, ma noi non dobbiamo credere solo quando vediamo, noi dobbiamo credere a tutto quello che c'è nella parola di Dio e credere che Dio ha aperto il Mar Rosso, e guardate bene, questa è una prova importante, credere che Dio abbia aperto il Mar Rosso senza condizioni mentali, senza che noi cerchiamo una spiegazione scientifica, logica, non c'è una logica, non c'è una cosa scientifica, si crearono due muri d'acqua che non cadevano su quel tratto di mare dove è passato sull'asciutto il popolo di Israele, lì non c'è una cosa scientifica, lì è Dio che ha operato contro la scienza, ha fatto quello che ha voluto lui, e il popolo di Israele è passato attraverso il mare, sull'asciutto però, sull'asciutto, e aveva due muri d'acqua, non so grandi quante erano, ma erano sicuramente grandissimi quando il popolo di Israele passava lì, vedeva ai suoi lati i muri d'acqua perché erano due muri d'acqua quando tentarono di passare gli egiziani questi muri d'acqua caddero addosso a quel a quell'esercito a Faraone e al suo esercito e morirono in quel luogo perché gli vedete vedete il Dio che non muta non può mutare vedete ha avuto misericordia del suo popolo lo ha liberato potentemente ma nello stesso tempo ha punito i malvagi ha punito quelli che egli non gradiva quindi e questo che lui ha fatto lo farà sempre è sempre agito in questa maniera anche se è un Dio buono che aspetta e paziente però continuerà perché Dio non può mutare capite non può mutare egli non muta il suo comportamento è sempre il medesimo ma andiamo avanti dopo aver liberato il Mar Rosso cosa ci dice questo Salmo cosa ci ricorda di Dio colui che condusse il suo popolo attraverso il deserto cioè il Dio guidava il suo popolo attraverso il deserto di giorno c'era una nuvola che copriva d'ombra il suo popolo e di notte invece c'era una colonna di fuoco che illuminava il sentiero per cui dovevano camminare vedete fratelli e sorelle come è grande il nostro Dio se la nostra situazione è di giorno egli ci copre e ci protegge se ci troviamo al buio in un momento scuro della nostra vita egli ci guida illuminandoci il sentiero per cui dobbiamo camminare e questa luce no? c'è scritto che la parola è una lampada al nostro piede una luce sul nostro sentiero se noi non vogliamo non vogliamo camminare nelle tenebre se noi vogliamo sempre vedere la strada maestra la strada che Dio ci vuole far percorrere dobbiamo sempre stare attaccati alla parola di Dio perché la parola è una lampada al nostro piede illumina il sentiero che dobbiamo percorrere se non vogliamo smarrirci nelle tenebre smarrirci in questo mondo di tenebre dobbiamo sempre camminare secondo come insegnano le scritture non attenerci a quello che dicono gli uomini ascoltare sì esaminare ogni cosa e mettere alla prova alla prova della parola ogni cosa che viene detta e attenersi strettamente alla parola colui che percosse re grandi e uccise re potenti il popolo di Israele arrivò era in viaggio e ha dovuto combattere ha dovuto combattere anche con popoli che erano più grandi di loro ma la differenza la vittoria quello che ha determinato la vittoria per il popolo di Israele in battaglia è stato che è Dio il Dio era con loro non il numero non i carri non i cavalli danno la vittoria ma è la fede nell'eterno nell'I Dio vivente è vero è questo che dà la vittoria ogni giorno alla nostra vita avere fiducia continuamente in Dio che Egli ogni giorno regna e vive in mezzo a noi in noi vicino a noi attorno a noi Egli che conosce ogni nostro pensiero Egli che conosce tutto di noi anche quando falliamo Egli lo sa ci conosce e ci tende la mano per rialzarci e noi la vittoria che abbiamo l'abbiamo solamente non perché siamo bravi o migliori di altri no quando noi abbiamo una vittoria ce l'abbiamo perché Dio è con noi e quindi lo ringraziamo e questo è lì Dio colui che ci soccorre colui che combatte le nostre battaglie Sion re degli Amorei e Ogre di Basan cioè grandi re furono abbattuti davanti a Israele dette il loro paese in eredità in eredità all'Israele suo servitore colui che si ricordò di noi nel nostro abbassamento e ci ha liberato dai nostri nemici colui che dà il cibo ad ogni carne perché la sua benignità dura in eterno celebrateli Dio dei Cieli perché la sua benignità dura in eterno egli è colui che dà da mangiare a tutti gli animali della terra la terra dà da mangiare a tutti cioè neppure un passero è tralasciato da Dio capite cioè neppure un filo d'erba è dimenticato dal Signore egli cura tutto si prende cura di tutto ma quello di cui meglio è di più si prende cura il Dio sono i suoi figlioli per il quale Cristo Gesù è morto e li ha acquistati dal regno delle tenebre pagandoli a caro prezzo un passero non è stato comprato a caro prezzo eppure il Dio si prende cura del passero ma i figlioli dell'Iddio altissimo sono stati comprati a caro prezzo al prezzo del sangue del suo figliolo quindi volete voi che avendoci acquistati con caro prezzo non si prende cura di noi non dobbiamo offendere il Dio diciamo cadendo appunto in questo punto cominciando a pensare Dio non si prende cura di me il Dio non mi dà valore io non servo a niente fratelli se siete stati comprati a un prezzo carissimo e altissimo voi non potete dire questo non potete dire che non valete niente o che non si prende cura di voi non si può dire perché si offende colui che sta operando tutti i giorni per voi singolarmente come famiglia capite come lui vuole il fatto che ci siano prove sofferenze dolori che tutte le cose non vadano come ci aspettiamo è semplicemente perché c'è una lezione che dobbiamo imparare dobbiamo imparare ad avere pazienza e dobbiamo imparare e la lezione arriva dobbiamo imparare a soffrire per migliorarci per umiliarci per stare umili e non inorgoglirci gloria a Dio allora per le sofferenze però Dio opera sempre per il nostro bene quindi non facciamoci prendere da pensieri non sono i pensieri che vengono da Dio quelli che diciamo ci buttano a terra quelli che ci fanno vedere che Dio è più è lontano e Dio non è lontano da ciascuno di noi se è stato con noi quando ci ha salvati lo sarà in ogni momento quindi noi dobbiamo crederlo questo stando fermi nella fede in questo che Dio è con noi ci ha salvati seppure ci ha salvati nel senso che se uno pensa di essere salvato e non è nato di nuovo allora no allora deve nascere di nuovo ma coloro che sono stati salvati sono nati di nuovo sono stati acquistati il prezzo è stato pagato la liberazione della sua anima è avvenuta i peccati sono stati purificati il prezzo il sangue di Gesù Cristo è stato pagato per la tua liberazione non devi dubitare che Dio sia con te se no che ti ha comprato a fare che ti ha comprato a fare per tenerti lontano no allora semmai siamo noi che ci allontaniamo da Dio e questo non deve avvenire questo non deve avvenire ecco perché vi sto esortando a perseverare nella preghiera perché se voi non pregate voi vi allontanate da Dio allora si che sentiamo il Dio lontano perché non andiamo a trovarlo perché non andiamo in preghiera a ricevere le sue benedizioni la sua gloria la sua sapienza tutti i doni che lui ha preparato per noi quindi se noi non andiamo a trovarlo è chiaro che ci stiamo allontanando quindi se uno non ha il desiderio di andare a incontrare lo sposo significa che non è una sposa fedele quindi dobbiamo proprio sentire il bisogno di andare a trovare Dio in preghiera è questo che deve muovere che ci deve muovere in preghiera è questo il sentimento che dobbiamo imparare ad avere avere il desiderio ardente di andare a trovare il nostro sposo che è Cristo che è Dio per ricevere da lui quello che lui ha promesso per noi ha promesso di darci dopo il salmo 136 vorrei leggervi anche il salmo 121 qui è stato difficile scegliere perché sono molti salmi e molte le cose che si possono dire ne ho fatto una selezione poi ve li studiate tutti gli altri e gli date un titolo voi a ciascuno il salmo 121 io gli ho voluto dare il titolo è Dio che ci protegge il Dio è colui che ci protegge e il salmo 121 dice così io alzo gli occhi ai monti donde mi verrà l'aiuto? eh quante volte ci siamo fatti questa domanda abbiamo alzato gli occhi ci siamo guardati attorno ci sembrava che tutto ci schiacciava sembra che tutto ci voglia tutto marci contro di noi tutti ce l'hanno con noi ci stanno schiacciando tutti allora abbiamo bisogno di aiuto perché le nostre forze stanno venendo meno abbiamo bisogno di qualcuno che ci soccorre che ci liberi che ci tragga fuori chi è che ci soccorre? quindi alzando gli occhi ai monti il nostro aiuto qui il salmista dice il mio aiuto viene dall'eterno dall'iddio vivente quindi che cosa ha fatto l'eterno? l'eterno ha fatto i cieli e la terra egli non permetterà che il tuo piede vacilli colui che ti protegge non sonnecchierà fratelli il nostro Dio non va in vacanza il nostro Dio non dorme non ha bisogno di dormire per riposarsi egli non si stanca e non si affatica egli veglia di noi in ogni momento della giornata e della notte non viene mai meno il nostro Dio non sonnecchia non c'è niente che sfugga al suo controllo soprattutto le cose nulla sfugge ma soprattutto le cose che riguardano i suoi figlioli la sua eredità nulla sfugge al controllo dell'iddio vivente egli non sonnecchia quindi ma veglia su di noi ecco colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà non dorme ho sentito dire che tra i musulmani alcuni peccano di notte perché dicono che di notte il loro Dio Allah dorme ebbene io non lo so se il loro Dio dorma o non dorma ma il nostro Dio invece è colui che è presentato dalle sacre scritture colui del quale se ne parla nei salmi non sonnecchia e non dorme ma veglia sempre sul suo popolo questo è il nostro Dio l'Eterno è colui che ti protegge l'Eterno è la tua ombra ti puoi staccare dalla tua ombra prova allontanarti dalla tua ombra prova a staccarti dalla tua ombra ecco perché fa queste figure fratelli ecco perché la scrittura prende certe figure comprensibili in tutte le epoche perché la parola di Dio è vivente e permanente non non muta non cambia coi tempi non cambia con le usanze non cambia se dai carri si è passati alle astronavi non cambia la parola di Dio non cambia usa figure che possono essere capite in tutte le epoche e guardate questa figura l'Eterno è la tua ombra l'Eterno è colui che è sempre attaccato a te dove sei tu c'è l'Eterno non ti puoi separare dall'Eterno a meno che non lo rinneghi a meno che sei tu che non ti vuoi allontanare da lui volontariamente ma se no come la tua ombra non si può separare da te l'Eterno non si separerà da te così è scritto credi tu che questa sia parola di Dio allora ci devi credere fino in fondo cercando di spegnere ogni dubbio di rigettarlo via perché questa è la parola di Dio vivente vera e non è venuta mai meno la parola del Dio vivente finora io ormai sono diversi anni dal 90 che il Signore mi ha salvato e vi posso assicurare che per adesso tutte le scritture che ho potuto sperimentare di persona o studiare o vedere anche in altri si sono verificate non è caduta una parola a terra neanche una virgola ancora si è avverato tutto anzi si sono avverati vedo manifestarsi anche quei passaggi delle scritture che pensavo che fossero o un'esagerazione o qualcosa che non era più per noi per oggi tipo certi peccatori certi modi di fare di certe persone no io mi riferivo a questo al male che c'è in mezzo alla Chiesa non nel mondo il mondo si sa che è malvagio ma in mezzo alla Chiesa di cui la scrittura diceva che c'erano certe cose io veramente ho detto ma i Santi possono mai fare tali cose eppure in mezzo alla Chiesa mi sono dovuto ricredere ho dovuto ancora ammettere che in tutte le cose la parola di Dio è verace è verace sino in fondo e sto imparando più leggo più vivo più faccio esperienza col Signore e più mi accorgo che la parola di Dio è così come è scritto il mondo è così come è scritto nella parola io più studio la parola più vedo che il mondo è così come dice la parola quindi non ci dobbiamo distaccare in nessuna maniera dalla parola di Dio l'Eterno è colui che ti protegge l'Eterno è la tua ombra egli sta alla tua destra di giorno il sole non ti colpirà né la luna di notte di giorno non ti colpiranno le prove non ti colpiranno nel senso che non ti abbatteranno non che non verranno le prove su di te capite perché il sole si leva ma il Dio ti protegge dal sole però il sole la calura la forza la forza del sole si sente c'è la prova la persecuzione la difficoltà quella arriva ma il Dio poi stende la sua ombra su di te ti protegge e neppure di notte di notte quando tutto si fa oscuro come abbiamo già detto quando tutto sembra oscuro che non vediamo più egli ti protegge tu non vedi il pericolo ma il Dio si sapete un giorno il Dio ci dirà da tutti i pericoli che ci ha scampato e di cui noi non ci siamo neanche resi conto di averli passati ebbene il Dio ha vegliato su noi ha mandato i suoi angeli a vegliare su noi e ci ha protetti da ogni male egli proteggerà egli infatti c'è scritto l'Eterno ti proteggerà da ogni male ricordatevele queste cose quando preghiamo adesso stiamo un po' leggendo il salmo ma quando preghiamo quindi come dovremmo fare dice Signore Tu sei colui che mi protegge Tu sei colui che ci protegge da ogni male Tu sei l'Eterno l'Iddio Onipotente che ci preserva da ogni male quindi leggiamo in una maniera e poi ci rivolgiamo a Dio nella nostra preghiera perché stiamo leggendo questi salmi per capire comprendere quali sono le parole da credere da meditare e che dobbiamo pregare perché queste sono le parole che i salmisti hanno invocati Dio con queste parole e sono gradite a Dio quindi sono parole che noi sappiamo che sono gradite a Dio perché se erano gradite all'epoca che furono scritte dai salmisti saranno gradite anche oggi non è gradito secondo voi oggi se uno dice o è Signore proteggimi da ogni male se c'è scritto l'Eterno ti proteggerà da ogni male e noi invochiamo il Dio dicendo o Signore proteggici da ogni male proteggi l'anima mia l'Eterno proteggerà il tuo uscire e i tuoi entrari da ora in Eterno il Signore ci protegge il Signore ci preserva ci guida in ogni cosa il nostro uscire il nostro entrare l'Eterno vede quando entriamo l'Eterno vede quando usciamo da casa l'Eterno vede ogni cosa egli pesa gli spiriti ogni nostro pensiero è davanti a Lui una cosa scoperta egli lo vede lo vede chiaramente ed egli ci protegge ci protegge perché perché è il nostro Dio perché è il nostro Padre Celeste è colui che ci ha rigenerati per mezzo della fede nel suo amato figliolo quindi dobbiamo avere sempre presente e avere fiducia in questo che egli ci ama se ci ha salvati è perché ci ha amati che ci ama non è che ci ha salvati così senza nessun motivo se ci ha salvati ci ama e quindi noi dobbiamo perseverare nel suo amore cercare di fare la sua volontà in questo caso stiamo parlando della volontà di Dio che è quella di perseverare nella preghiera imparare a pregare e pregare facendosi aiutare dai salmi da coloro che prima di noi hanno pregato hanno pregato guidati dallo Spirito Santo sono parole guidate dallo Spirito Santo e lo dobbiamo leggere dobbiamo aiutarci studiando anche i salmi pregando con i salmi aperti perché arriverà il momento che le frasi che sono nei salmi poi le domanderemo senza l'aiuto della Bibbia aperta nei salmi cominceremo a domandare liberamente dalla nostra bocca proveniente dal cuore arriveranno tutte quelle frasi quelle parole gradite a Dio che provengono appunto da esperienza fatta in preghiera con il Signore con una volontà di imparare a pregare dopo il Salmo 121 dopo il Salmo 121 volevo parlarvi di due salmi che sono particolari io devo dire che mi sono trovato molto spesso a doverli pregare cioè a dover pregare con quei due salmi due salmi che provengono da un peccato un peccato che era quello di Davide quindi dobbiamo prima leggere cosa è accaduto per comprendere meglio i salmi dobbiamo leggere cosa è accaduto a Davide quindi dobbiamo andare a leggere in seconda Samuele capitolo 12 voi sapete che Davide peccò commise adulterio con una donna chiamata Bathsheba la moglie di Uriah Loiteo rimase incinta e per coprire il suo peccato Davide fece tornare dalla battaglia Uriah Loiteo ma Uriah Loiteo non si unì a sua moglie perché era un uomo era un uomo onesto giusto allora Davide cosa ha fatto con uno stratagemma d'accordo con un altro con con altri suoi servitori lo ha fatto morire per mano degli ammoniti per mano degli avversari di Israele è riuscito nel suo intento l'ha fatto morire ha fatto morire Uriah Loiteo ma questo può essere sfuggito al popolo di Israele può essere sfuggito agli uomini ma non è sfuggito a Dio questi peccati questi peccati che Dio mandò un profeta a parlare con Davide ad ammonirlo perché Dio stava per farlo morire a Davide il Dio stava per operare grandi punizioni e gli manda un profeta gli manda un profeta e qui leggiamo capitolo 12 di seconda Samuele dal versetto 5 allora l'ira di Davide si accese fortemente contro quell'uomo e disse a Natan com'è vero che l'Eterno vive colui che ha fatto questo merita la morte e pagherà quattro volte il valore dell'agnella per aver fatto una tal cosa e non aver avuto pietà e prima Natan gli raccontò una storiella su una certa agnella che un uomo prepotente la tolse a colui che era povero e aveva solo questa 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 agnella e Davide a questa figura a questo racconto che gli disse il profeta Natan si adirò fortemente che è quello che abbiamo letto ma Natan infatti poi gli rispose gli disse allora Natan al versetto 7 allora Natan disse a Davide tu sei quell'uomo vedete un profeta che parla al re non bisogna avere riguardi personali ecco questo è un altro aspetto che si evince da questo modo di parlare del profeta non ha avuto vergogna oppure non ha avuto paura Natan di parlare francamente a Davide tu sei quell'uomo che ha peccato praticamente così dice l'Eterno lì Dio di Israele io ti ho unto re di Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul ti ho dato la casa del tuo Signore e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo Signore ti ho dato la casa di Israele e di Giuda e se questo era troppo poco io vi avrei aggiunto anche dell'altro perché dunque hai tu disprezzata la parola dell'Eterno facendo ciò che è male agli occhi suoi tu tu hai fatto tu hai fatto morire con la spada Uriah Loiteo hai preso per tua moglie la moglie sua e hai ucciso lui con la spada dei figlioli di Ammon or dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa già che tu mi hai disprezzato e hai preso per tua moglie la moglie di Uriah Loiteo così dice l'Eterno ecco io sto per suscitare contro di te la sciagura dalla tua stessa casa e prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un tuo prossimo che si giacerà con esse in faccia a questo sole poiché tu l'hai fatta in segreto ma io farò questo davanti a tutto Israele e in faccia al sole allora Davide disse a Natan ho peccato contro l'Eterno e Natan rispose a Davide e l'Eterno ha perdonato il tuo peccato tu non morrai non di meno siccome facendo così tu hai data ai nemici dell'Eterno ampia occasione di bestemmiare il figliolo che ti è nato dovrà morire Natan se ne tornò a casa sua e l'Eterno colpì il bambino che la moglie di Uriah aveva partorito a Davide ed esso cadde gravemente ammalato Davide quindi fece supplicazioni a Dio per il bambino e digiunò poi venne e passò la notte giacendo per terra gli anziani della sua casa insistettero presso di lui perché egli si levasse da terra ma egli non volle e rifiutò di prendere cibo con essi or avvenne che il settimo giorno il bambino morì ecco quindi cosa avvenne avvenne che il Dio ebbe misericordia di Davide ma la punizione gliel'ha voluta lo stesso promettere e poi gli verrà successivamente gli è venuta la sua grande punizione intanto qui in questo passaggio c'è la morte la malattia e poi la successiva morte del figlio nato da adulterio Davide che capì che questa morte sarebbe stata a causa del suo peccato vedete nel secondo comandamento del decalogo anche qui si adempie quello che è scritto nel secondo comandamento del decalogo cioè che il peccato dei padri ricadono sui figli in questo caso accadde proprio questo vedete il secondo comandamento così come anche Gesù parliamo adesso sotto la grazia del secondo comandamento Gesù minaccia quella donna adultera che si chiama Jezebel la minaccia di far morire i suoi figlioli a cagione del suo adulterio della sua fornicazione quindi il secondo comandamento è stato dato ed è ancora in vigore non è venuto meno perché il secondo comandamento c'è una prima parte che è più conosciuta dagli evangelici che è quella dove parla contro le statue gli idoli e non bisogna servire loro ma la seconda parte dice appunto che Dio punisce i peccati dei padri sui figlioli e così avviene così è avvenuto e così avverrà anche in futuro perché questo comandamento non è cessato non è cambiato nulla e in caso di adulterio vedete adulterio e omicidio sono peccati gravi ecco il Dio li fa ricadere sul figlio di Davide lo fa morire adulterio vedete se quella donna Iezebel attenzione guardate la misericordia di Gesù però di Dio cioè se egli si sarebbe ravveduta non sarebbero avvenute queste punizioni però siccome ella non voleva ravvedersi sicuramente poi Gesù ha compiuto quello che lui ha detto che avrebbe fatto avrebbe messo quelle persone che commettevano adulterio lei e le persone che facevano adulterio con lei in un letto di dolore e i suoi figlioli li avrebbe messi a morte così come scritto nel secondo comandamento la parola di Dio sia vera non si può scherzare con la parola di Dio quello che è scritto quello avviene anche quando è spiace però vedete da una parte abbiamo la misericordia di Dio che se uno si pente il Signore non manda il male che ha promesso di mandare ma se uno si rifiuta di pentirsi non si ravvede davanti a Dio e allora riceverà quello che è scritto nella parola quindi vedete Davide volendo salvare la vita al suo figliolo che si è ammalato si sdraiò per terra digiunò non mangiò e questo durò sette giorni quindi voi immaginatevi senza mangiare senza bere a pregare faccia a terra sdraiato lì per terra in questa situazione quindi in questa situazione in questa situazione d'animo e di fisico di Davide andiamo questa è la situazione serviva per creare diciamo per capire lo stato d'animo del salmista che ha scritto queste parole adesso dobbiamo andare a leggere i salmi 32 e 51 questi due salmi che cosa perché mi hanno aiutato tante volte mi hanno aiutato che quando mi sono trovato a peccare a sbagliare a offendere la santità di Dio in qualche maniera mi sono trovato diciamo a ad essere in una situazione di chiedere di ravvedermi e di chiedere perdono a Dio mi sono aiutato con questi salmi mi sono ricordato di quello che fece Davide e quindi ho voluto pentirmi anch'io aiutandomi aiutandomi con questi salmi come fece gridando a Dio con le parole di Davide al salmo 32 leggiamo beato colui la cui trasgressione è rimessa e il peccato e il cui peccato è coperto beato l'uomo a cui l'eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non è frode alcuna vedete qui l'uomo è beato quando quando il suo peccato è perdonato quando le sue iniquità sono purificate quando Dio le sue trasgressioni non le considera allora l'uomo è beato si sente felice quell'uomo è un uomo felice quindi chi si trova chi si trova in uno stato d'animo di tristezza a causa del suo peccato cioè chi si trova in uno stato d'animo di tristezza può essere che lo è perché ha peccato davanti a Dio quindi si deve mettere a posto deve pregare Dio ravedersi e chiedere perdono dei suoi peccati a Dio affinché la beatitudine la pace la serenità e la gioia ritornino ad abitare nel suo cuore mentre sta scritta dal versetto 3 mentre io mi sono taciuto le mie ossa si sono consumate per il ruggire che io facevo tutto il giorno cioè Davide era per terra che digiunava che pregava finché suo figliolo fosse fosse salvato fosse diciamo guarito rimanesse in vita poiché giorno e notte la tua mano si aggravava su me il mio succo vitale si era mutato come per arsura d'estate io ti ho dichiarato il mio peccato non ho coperta la mia iniquità io ho detto confesserò le mie trasgressioni all'eterno e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato vedete questo è importantissimo quando uno si rende conto di aver peccato di aver offeso il Signore in qualche maniera quello che deve fare ed è obbligatorio badate bene non è una cosa facoltativa che se lo vuoi fare lo puoi fare no lo devi fare perché se la gioia la pace la serenità è fuggita dal tuo cuore perché hai peccato cosa devi fare per ritornare ad essere beato ad essere felice nel Signore devi confessare il tuo peccato all'eterno e lui ti perdonerà perdonerà il tuo peccato perciò quindi vedete pregando e leggendo questi passaggi voi sapete cosa domandare in questa particolare circostanza avete più parole da dire al Signore perciò ogni uomo pio ti invochi nel tempo che puoi essere trovato e quando strarippino le grandi acque esse per certo non giungeranno fino a lui tu sei il mio ricetto tu mi guarderai da distretta tu mi circonderai di canti di liberazione quando uno è triste quando uno è pieno di problemi di difficoltà poi quando il Dio lo libera questo è pieno di canto è pieno di gioia il Dio lo ha liberato era prigioniero nel peccato e lo ha liberato e quindi sarà pieno di gioia e sarà beato io e qui è Dio che parla al peccatore questi passaggi io ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare io ti consiglierò e avrò gli occhi su te non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia altrimenti non ti si accostano cioè talvolta il Dio talvolta noi ci allontaniamo dall'andare a Dio dal pregare non andiamo a trovare il nostro Dio in preghiera facciamo come il cavallo cioè il cavallo se non viene preso di forza e gli si mettono le biglie e gli si mette il freno in bocca e lo si tira non ti si accosta il Dio ci esorta a non essere come i cavalli cioè perché il Dio ci deve legare con delle funi per farci andare a Lui con le funi della sofferenza con le funi tirarci a Lui con le funi delle prove con le funi di tante cose che ci fanno soffrire che però sì è vero che ci fanno soffrire però ci fanno andare a Dio quindi da una parte c'è un aspetto positivo che è quello che ci costringe ad andare a Lui dall'altra c'è un aspetto di sofferenza eh sì perché sono le sofferenze quelle che ci fanno andare maggiormente a Dio ecco perché perché non ci troviamo mai completamente liberi dai problemi dalle sofferenze dalle malattie c'è sempre qualcosa ma questo qualcosa è come il freno dei cavalli cioè per attirarci a Lui i Dio tira ma gloria a Dio che lo fa forzatamente anche perché altrimenti noi ce ne andremo per conto nostro e di Dio se tutto ci andava bene non ci ricorderemo più di Lui non ci ricorderemo di Lui e invece con la sofferenza siamo costretti quindi con la fune è una fune d'amore alla fine quella che Dio quella con cui Dio ci tiene legati a Lui è una fune d'amore una fune di vita eterna che ci tiene legati a Lui però sarebbe bene capire questo che noi dobbiamo andare a Dio e Dio vuole che noi andiamo a Lui non dobbiamo essere sempre costretti ad andare a Lui quando va tutto male noi dobbiamo andare a Lui sempre e costantemente ogni giorno quando va bene e quando va male questo vuole il Signore questo ci sta insegnando qui nella preghiera dobbiamo andare a Lui ogni giorno non importa cosa sta succedendo attorno a noi e Gli vuole che ci accostiamo a Lui di continuo molti dolori aspettano l'empio è chiaro che Dio ci fa sapere anche no? e lo dobbiamo ricordare in preghiera questo molti dolori aspettano l'empio vuoi vivere empiamente? non vuoi sottostare alle regole e ai comandamenti di Dio? ti piace l'empietà? la dissolutezza? sappi anche che molti dolori aspettano l'empio vuoi vivere empiamente? e allora ti aspetteranno molti dolori questo il Dio te lo fa sapere e così è egli non è un uomo che possa mentire quindi quello che è scritto quello avverrà per certo ma chi confida nell'Eterno la sua grazia lo circonderà vuoi che la grazia di Dio ti circondi? allora confida in Lui pienamente non avere alcun dubbio bandisci il dubbio della tua vita il dubbio lasciatelo ai massoni ai relativisti a quelli che tutte le tesi sono buone noi non possiamo dire in questa maniera che tutte le cose sono buone sono buone quelle che la Bibbia dice che sono buone e sono cattive invece quelle che la Bibbia dice che sono cattive questa è la nostra posizione se la Bibbia dice che l'omosessualità è peccato non c'è una condizione che io che si possa verificare per poter dire che quella condizione di omosessualità non è peccato capite? questo vuol dire confidare in Dio vuol dire stare fermi nella verità di Dio e non farsi prendere dai dubbi da chissà quali dubbi dai ragionamenti fatti con la sapienza umana per annullare i comandamenti di Dio confidare in Dio più che nell'uomo se l'uomo parla contro un comandamento di Dio e Dio dice che faccio un altro esempio se Dio dice che la donna deve pregare con il velo e viene un uomo e dice no ma quello è un comandamento che c'era tanti anni fa il comandamento non è più per oggi sta parlando contro un comandamento che è scritto nella parola fratelli capite? se Dio ha voluto che rimanesse scritto quel comandamento è per noi se no che cosa c'è scritto a fare là? cosa c'è scritto a fare se era solo per i corinzi? cosa ci è rimasta a noi quella scrittura? l'avrebbe tolta il Dio avrebbe fatto in maniera che quel pezzo non arrivasse a noi no? se non è per noi perché doveva arrivare a noi in una maniera così ferma e decisa da osservare? quindi ecco cosa vuol dire confidare in Dio fidarsi della sua parola più che dell'uomo più che dell'uomo ascoltateli gli uomini ma esaminate ogni cosa ogni cosa attraverso le sacche scritture cioè io preferisco osservare la parola di Dio che è la parola d'uomo la parola d'uomo ci può ingannare quindi quando sentiamo un uomo parlare dobbiamo andare a vedere la Bibbia se questo è confermato quello che sta dicendo se non è confermato ma io non l'accetto non mi interessa non mi interessa la parola d'uomo chiunque esso sia quando anche venisse un angelo o lo stesso apostolo Paolo a dire che oggi il velo non si può più più usare quando anche fosse proprio l'apostolo Paolo a me non mi interesserebbe più questo perché? perché io ho la parola io mi fido della parola capite? e quindi ci dobbiamo attenere a quello che è scritto se uno si attiene la parola la grazia di Dio lo circonda la grazia di Dio lo benedirà grandemente capite? ma se ti fidi di Dio se ti fidi della sua parola perché guardate bene non è che uno dice io vabbè non mi interessa la parola mi fido di Dio ma non mi interessa la parola di Dio non esiste questo eh quelli che non si attengono alla parola e poi dicono invece che seguono Dio non è vero non è vero perché uno che segue Dio che ama il Dio veramente poi si attiene strettamente anche alla sua parola perché sa che è cosa gradita a Dio quello di attenersi alla sua parola quindi se ama il Dio deve attenersi alla sua parola rallegratevi nell'eterno e fate festa o giusti e fratelli noi abbiamo di che festeggiare di che cosa dobbiamo festeggiare fratelli festeggiare nel senso figurativo non è che dobbiamo aprire champagne o altre cose fare feste come fanno quelli del mondo abbiamo di che gioire di che cosa perché siamo giusti ma non giusti perché noi abbiamo fatto opere buone siamo stati giustificati con la morte e la risurrezione di Gesù Cristo noi abbiamo creduto che Gesù Cristo è risuscitato e per questo siamo stati resi giusti purificati dai nostri peccati con lo spargimento del sangue di Cristo Gesù quando è morto sulla croce questo ci ha resi giusti e di questo dobbiamo rallegrarci dobbiamo rallegrarci perché ci abbiamo la macchina nuova dobbiamo forse rallegrarci perché ci abbiamo la casa nuova dobbiamo rallegrarci perché ci siamo comprati un vestito nuovo no fratelli la nostra ricchezza vera è in Cristo è la vita eterna è la salvezza che Dio ci ha donato quella è la ricchezza che noi abbiamo quella è la cosa di cui dobbiamo rallegrarci del continuo e Dio ha avuto misericordia di noi di noi che per il mondo siamo nulla ciascuno di noi per il mondo è niente non siamo che polvere non siamo che un granello di polvere in mezzo alla sabbia ma pure Dio questi granelli di sabbia come noi gli ha dato un grande valore ci ha salvati ha avuto pietà di noi ha avuto misericordia di noi non di tutti non ha avuto misericordia di tutti indistintamente ma di noi sì ci ha salvati e ci ha purificati da ogni peccato e di questo noi ci dobbiamo rallegrare del continuo e dobbiamo ricordarglielo anche in preghiera io ti ringrazio Signore perché stiamo leggendo questi passaggi che poi dobbiamo applicare poi in preghiera io li sto spiegando ma poi questi si applicano nella preghiera Signore ti ringrazio per avermi salvato tu sei la mia gioia ti ringrazio per aver rallegrato il mio cuore con la tua grande salvezza avendomi purificato da ogni peccato non è motivo di rallegrarsi questo questo è forse l'unico motivo vero e fermo di cui ci dobbiamo rallegrare certo ci sono anche altre cose non è solo questo però tutti i doni che Dio ci dà anche un figlio c'è di cui rallegrarci gloria a Dio è un dono anche quello dell'eterno ma questa è la cosa più grande di cui rallegrarci che Dio ha salvato noi ci ha scelti ci ha eletti a salvezza per la sua misericordia non perché ha visto in noi degli uomini particolarmente migliori di altri no perché gli ha scelto nella sua autonomia nella sua nel suo beneplacito della sua volontà dice in un passo in Efesimi ci ha salvati come lui ha voluto come ha preparato lui come ha voluto salvare giubilate voi tutti che siete diritti di cuore eh sì siamo stati fatti la Dio diritti di cuore adesso dobbiamo custodire il nostro cuore custodire il tuo cuore più di ogni altra cosa quindi siamo stati resi diritti di cuore siamo stati resi santi giusti adesso però ci dobbiamo santificare noi il Signore continua a santificarci lui ma anche noi ci dobbiamo santificare ci dobbiamo applicare dobbiamo liberarci di tutto quello che ci contamina e ci mantiene legati a questa terra andiamo avanti e leggiamo anche il Salmo 51 anche quello proviene da un cuore rotto da uno spirito contrito che era quello di Davide in quella situazione angosciosa in cui si trovava e il Salmo 51 dice abbi pietà di me o Dio secondo la tua benignità secondo la moltitudine delle tue compassioni cancella i miei misfatti vedete una richiesta da fare a Dio di avere pietà di noi vi ricordate anche quel racconto che Gesù disse del pubblicano e del fariseo il fariseo il pubblicano tornò a casa giustificato perché cosa faceva stando lontano si batteva il petto e diceva abbi pietà di me e tornò a casa giustificato e qui vedete anche il salmista cosa dice abbi pietà di me vedete queste parole devono essere sempre presenti nella nostra bocca quando andiamo a Dio in preghiera abbi pietà di me o Dio secondo la tua benignità perché? perché Dio è buono perché la sua benignità abbiamo letto prima dura in eterno l'eterno è buono e la sua benignità dura in eterno non è a caso che questi due passaggi nel salmo 136 erano scritti di continuo in diciamo subito dopo le varie cose che abbiamo letto c'erano questi passaggi c'era questo passaggio perché la sua benignità dura in eterno questo ci fa capire quanto è buono il Signore è giusto perché la benignità la troviamo dentro il contenitore della giustizia di Dio eh attenzione la benignità non è fine a se stessa ma è dentro il contenitore della giustizia di Dio non è fuori quindi c'è la giustizia di Dio e dentro c'è la sua benignità che è immensa così come anche la giustizia di Dio però Dio è giusto quindi badate bene che Dio non tiene il colpevole per innocente non ha riguardi personale quindi chiediamo pure pietà quando abbiamo sbagliato chiediamo pietà con piena fiducia al Signore chiediamo invochiamo la sua misericordia le sue compassioni chiediamogli di cancellare i nostri misfatti lavami del tutto della mia iniquità e nettami del mio peccato poiché io conosco i miei misfatti e il mio peccato è del continuo davanti a me io ho peccato contro te contro te solo e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi vedete tutte queste parole sono le parole di colui che ha riconosciuto che confessa i suoi peccati a Dio bisogna confessare i propri peccati a Dio affinché il Dio poi ci perdoni e ci purifichi da ogni peccato lo confesso affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli è irreprensibile quando giudichi sì perché quando Dio giudica qualcuno noi non sappiamo talvolta quando un giudizio di Dio scende su qualcuno non lo sappiamo perché non sappiamo perché però noi sappiamo una cosa che Dio è giusto che Dio non può è irreprensibile quando giudica capite egli rimane vincitore quando viene giudicato appunto perché se qualcuno lo giudica e dice ah ma se Dio fa morire qualcuno non è giusto è un Dio crudele lo stanno giudicando vedete stanno giudicando il Dio quando invece noi sappiamo bene che Dio in tutte le scritture ha fatto vivere e ha fatto morire e lo fa ancora oggi tutt'ora oggi il Dio non è mutato quindi chi si permette di giudicare il Dio che chi è chi è l'uomo che si può permettere di giudicare Dio ma l'uomo è bugiardo il Dio invece è irreprensibile egli quando giudica non può essere non sbaglia è irreprensibile ecco io sono stato formato nella iniquità e la madre mia mi ha concepito nel peccato vedete confessa pure questo peccato il salmista in questo caso Davide confessa che lui è nato proprio nel peccato cioè anche nel rapporto carnale che c'è tra un uomo e una donna anche se sono marito e moglie c'è del peccato e anche quello ha confessato Davide e ha chiesto pietà a Dio ecco tu ami la sincerità nell'interiore insegnami dunque sapienza nel segreto del cuore il Dio ama la sincerità odia l'iniquità odia la malvagità odia la falsità la frode l'inganno ma il Dio ama la sincerità nell'interiore una sincerità che viene dal cuore capite una sincerità costante non una sincerità di occasione di quel momento per ottenere un obiettivo specifico per essendo sinceri si cerca di ingannare lo stesso il prossimo questo il Dio non lo gradisce ma ama il Dio la sincerità nell'interiore quindi fratelli dobbiamo dire la verità gli uni agli altri dobbiamo dire sempre la verità fratelli secondo com'è nel nostro cuore dobbiamo essere sinceri davanti a Dio e davanti a tutti gli uomini sempre perché questo è gradito a Dio e Dio vedete nel nostro cuore insegna sapienza anche attraverso le sacche scritture si impara ad essere pieni di sapienza purificami con l'issopo e sarò netto lavami e sarò più bianco che ne fammi udire gioia ed allegrezza fa che le ossa che tu hai tritate festeggino sì perché quando si pecca uno si trova in una situazione di tristezza di malessere spirituale angoscia tribolazione uno è tribolato nell'animo quando vive nel peccato e ancora non è stato perdonato da Dio quindi infatti qui il salmista lo dice fammi udire gioia ed allegrezza e questa è la conseguenza del perdono dei peccati quando si viene perdonati dei peccati si sente una gioia grande una grande allegrezza c'hai voglia di gioire di far partecipare anche tutti gli altri alla tua gioia però se uno si trova in una situazione di peccato che ancora non è stato perdonato è triste è angosciato e gloria a Dio per questo perché questa tristezza questa angoscia non fa altro che spingerci a chiedere pietà e misericordia a Dio così impariamo a discernere quello che c'è dentro di noi impariamo a discernere che quando lo Spirito Santo è contristato e dentro ci sentiamo tristi non c'è gioia non c'è allegrezza non c'è pace non ci siamo angosciati e tribolati vuol dire che ci dobbiamo mettere a posto con Dio anche questo dobbiamo discernere dentro di noi qui non può entrare fratello in queste cose non può entrare il pastore l'anziano il caro fratello moglie marito figlio che sia in queste cose dentro di noi ci entra il Signore e dobbiamo valutarle noi da noi stessi dobbiamo esaminare noi stessi fratelli e sorelle dobbiamo imparare a discernere quello che c'è dentro di noi per tornare a Dio quando ci siamo un attimino allontanati per qualche cosa che è preferibile non allontanarsi mai da Dio e non sbagliare però sappiamo che dentro il nostro corpo che ancora il corpo non è stato redento solo la nostra anima è stata redenta cioè liberata dalla conseguenza del peccato il nostro corpo ancora c'ha quell'inclinazione a commettere il peccato quindi siamo ogni giorno tentati ogni giorno siamo in combattimento contro noi stessi contro la nostra carne e talvolta possiamo perdere ecco cosa fare quando si perde andare a Dio cioè discernere dentro di noi quella tristezza per poter andare a Dio a chiedere pietà e misericordia in preghiera quindi vedete questa tristezza ci porta al ravvedimento e quindi è la cosa buona non è la tristezza dovuta al peccato una cosa negativa ma è la cosa buona perché ci siamo un attimino allontanati da Dio dalle sue benedizioni della sua gioia della sua allegrezza e quindi facendoci sentire male tribolati nell'animo così siamo spinti a tornare a Lui per cercare la pace la gioia e la serenità quindi è una cosa buona non è una cosa una cosa cattiva anche qui la sofferenza ci viene in aiuto nascondi la tua faccia dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità oh Dio crea in me un cuore puro rinnova dentro di me uno spirito ben santo ecco quindi queste delle cose che dobbiamo chiedere a Dio creare in noi un cuore puro che sia sempre più puro il nostro cuore che il nostro spirito sia ben saldo fermo radicato nella verità di Dio queste sono cose che noi dobbiamo domandare a Dio se ce le dimentichiamo aiutandoci con i salmi vedete in preghiera se ce le siamo dimenticate leggendo in preghiera ce le ricordiamo e quindi le domandiamo a Dio nuovamente ecco perché ci dobbiamo aiutare con i salmi in preghiera o con altre scritture con altre preghiere con quello che uno si sente di fare non rigettarmi dalla tua presenza non togliermi lo spirito tuo santo questo passo cosa ci fa sapere che Davide voleva che non fosse rigettato dalla sua presenza perché vedete fratelli quando uno vive nel peccato io parlo dei fratelli dei santi che sono nati di nuovo se uno vive nel peccato non si ravvede non torna al Signore come quella donna Jezebel Gesù ha detto io gli ho dato tempo di ravvedersi ma ella non vuole sentirne di ravvedersi ella non vuole ravvedersi cosa vuol dire vuol dire che arriverà il momento in cui sarà rigettato il peccatore sarà rigettato da Dio quindi gli viene dato un tempo un tempo un tempo per ravvedersi dopo di che scade il tempo e da quel momento si viene rigettati ecco quindi non rimaniamo lontani da Dio molto tempo perché per non far scadere il tempo che Dio ci dà nella sua misericordia e non togliermi lo Spirito tuo Santo cosa ci fa capire qui che non è come dicono taluni qui voglio fare una piccola confutazione non è come dicono taluni cioè che lo Spirito Santo anticamente nei profeti andava e veniva sarebbe come dire che quando c'era lo Spirito Santo quelli erano figlioli e ministri di Dio quando lo Spirito Santo andava via erano completamente nella carne e noi sappiamo che chi è nella carne è morto spiritualmente chi non ha lo Spirito di Dio dentro di lui è morto non può avere fede in Dio perché è morto perché è in succube della carne quindi è sbagliato dire che anticamente i profeti o i ministri di Dio gli uomini di Dio avevano uno Spirito Santo che andava e li abbandonava e poi tornava no era dentro di loro e qui infatti Davide cosa dice ho peccato però non mi togliere lo Spirito tuo Santo anche se nella mia Bibbia è scritto in minuscolo la parola Spirito io non mi faccio ingannare dalla traduzione che hanno voluto dare qui hanno messo la parola Spirito minuscolo ma sempre dello Spirito Santo si tratta lo Spirito tuo Santo è lo Spirito Santo di Dio e Davide qui sta invocando il Dio dicendogli non me lo togliere non me lo togliere perché se la grazia di Dio si ritira da lui da lui e dai Santi anche oggi se lo Spirito Santo si ritirasse completamente da un uomo quello sarebbe completamente morto ed è questo che avviene ad esempio agli apostati è quello che avviene a coloro che commettono il peccato che mena morte lo Spirito Santo si ritira e dopo muoiono spiritualmente e poi moriranno fisicamente e la loro anima sarà gettata all'inferno quindi quando noi ci sentiamo tristi è una tristezza diciamo perché abbiamo sbagliato è lo Spirito Santo che è contristato quindi è dentro di noi ma è contristato e quindi dobbiamo chiedere perdono affinché lo Spirito Santo torni di nuovo a gioire dentro di noi per il nostro bene io non so come ci si senta se lo Spirito Santo abbandoni quindi quindi questo non vi posso spiegare interiormente come ci si sente in pratica però certamente se ci sentiamo male quando pecchiamo e lo Spirito Santo è ancora in noi voi immaginatevi come ci si può sentire se lo Spirito Santo se ne va lasciando un vuoto più completo peggio di come l'avevamo prima di convertirci quindi l'angoscia la tribolazione il dolore ma proprio quel dolore spirituale interiore profondo non può essere misurato perché c'è soltanto l'attesa l'attesa di un fuoco l'attesa del fuoco del giudizio di Dio per chi per chi commette il peccato che mena morte per chi appostata appostata dalla fede dalla verità di Dio rendimi la gioia della tua salvezza vedete cioè Davide Davide aveva la gioia della salvezza di Dio infatti qui gli dice rendimi al versetto 12 rendimi la gioia della tua salvezza infatti noi prima di essere salvati eravamo persone tristi che non sapevamo dove andavamo ma quando Dio ci ha salvati quando il Signore ci ha salvati la gioia è entrata dentro di noi una gioia abbondante una gioia che noi non riusciamo neanche a descrivere talvolta ebbene questa gioia si affievolisce quando noi non viviamo in comunione con Dio quando noi abbiamo peccato e qui Davide lo stava sperimentando infatti qui era costretta a chiedere rendimi la gioia prima ha chiesto perdonami e poi rendimi la gioia della tua salvezza fa che torni in me e fa che uno spirito volenteroso mi sostenga e sì perché quando si è nel peccato vengono meno anche le forze badate bene la voglia di fare la voglia di lavorare anche la voglia di fare qualsiasi cosa quando si è nel peccato invece quando si è fermi e fedeli a Dio si è pieni di forze e in tutto vogliamo fare sempre di più per il Signore perché il nostro spirito è sostenuto da Dio è sostenuto dallo Spirito Santo è uno spirito che ha la volontà di fare non è uno spirito abbattuto perché un uomo che pecca ha uno spirito abbattuto e quindi vedete che il peccato produce tutto questo male nell'animo umano e ci dobbiamo liberare al più presto e non dobbiamo passare tanto tempo altrimenti vivremo in tutto questo male fuori dalla gioia della pace di Dio nell'angoscia e nella tribolazione appena sentiamo che c'è qualcosa che non va chiudiamoci nella nostra stanzetta nella nostra cameretta imbocchiamo il Dio Signore io non so cosa ho fatto però non mi sento bene vuol dire che ho sbagliato vuol dire che devo venire a te e riconciliarmi con te vuol dire che devo esaminare me stesso aiutami Signore a vedere quello che in me non va affinché io me ne liberi o liberami tu se io non riesco da solo liberami tu spezza ogni catena affinché io sono libero da questo mondo e posso vivere pienamente la gioia l'allegrezza in Dio poi qui dal versetto 13 è Dio che parla dice io insegnerò le tue vie ai trasgressori no qui è sempre Davide che parla scusate cioè Davide noi quando abbiamo fatto questa esperienza no di aver peccato adesso come sto facendo io poi con voi e come Davide sta facendo con voi e ha fatto con me vedete io insegnerò le tue vie a chi? ai trasgressori vedete a chi ha trasgredito se viene in questo salmo gli viene insegnata la via che deve percorrere e i peccatori si convertiranno a te quindi questo anche dobbiamo fare con i fratelli quando li vediamo in difficoltà può essere che vivono anche in una situazione di peccato quindi non dobbiamo essere molto frettolosi nel giudicare male un fratello magari nervoso un fratello agitato un fratello che si vede che c'è qualcosa che non va dobbiamo provare a liberarlo ad aiutarlo e lo possiamo fare lo possiamo fare insegnandogli le vie che deve la via che deve percorrere per liberarsi dal suo peccato quindi anche questo sapendo questo fratelli e sorelle se ci troviamo prima lo insegniamo a noi stessi la via che dobbiamo percorrere quando ci troviamo nella trasgressione ma poi dobbiamo anche metterlo davanti agli altri affinché anche gli altri sappiano come uscire uscire da certi tunnel da certi luoghi d'ombra in cui si sono cacciati e li aiutiamo a uscire liberami dal sangue versato o Dio Dio della mia salvezza e la mia lingua celebrerà la tua giustizia infatti dopo quando noi siamo perdonati cosa facciamo diciamo guarda la giustizia di Dio la misericordia di Dio mi ha liberato ancora da questo peccato mi ha perdonato mi ha ridato la gioia della mia salvezza e quindi cosa facciamo celebriamo la grazia di Dio la gloria di Dio signore aprimi le labbra e la mia bocca pubblicherà la tua lode vedi un'altra cosa da domandare signore fa che le nostre labbra si aprano per lodare il tuo santo nome perché tu sei veramente degno di essere lodato e glorificato perché hai avuto pietà di noi poiché tu non prendi piacere nei sacrifizi altrimenti io li offrirei tu non gradisci olocausto cioè chi va a Dio in preghiera chi ha il cuore dolorante chi sta soffrendo e va a Dio con un cuore rotto e uno spirito contrito nella sofferenza in quello stato d'animo che aveva Anna vi ricordate Anna quando ha sparso la sua anima davanti all'Eterno perché il suo cuore l'ha tribolato la sua anima era sofferente dentro di sé perché desiderava avere un figliolo e non ne aveva fino a quel momento non ne aveva e il suo cuore era contrito ma Dio vedete ha ascoltato è arrivato il momento in cui Dio ha ascoltato ed esaudito la preghiera di quella donna che aveva il cuore rotto e lo spirito contrito e così noi dobbiamo andare dobbiamo andare a Dio dobbiamo andare a Dio con un cuore secondo come piace al Signore quando abbiamo sbagliato dobbiamo essere pentiti di tutto cuore in profondità nel nostro cuore quando noi invochiamo il Dio e desideriamo qualcosa lo dobbiamo fare con tutto il nostro cuore deve partecipare tutto il nostro essere alla preghiera non solo la bocca no? taluni io mi ricordo mi ricordo che quando ero cattolico che sapete le preghiere lì si recitavano si imparavano a memoria e si recitavano io mi ricordo che passavo un po' di tempo non era spesso ma qualche volta quando pregavo ripetevo le preghiere le preghiere a memoria ma mi rendevo conto che però la mia mente pensava ad altro cioè la bocca ripeteva quelle parole a memoria ma la mente stava pensando ad altro ecco questo non deve avvenire quando si va a pregare lì Dio vivente è vero perché noi dobbiamo partecipare in quella preghiera con tutto noi stessi corpo anima e mente capite non è che dobbiamo dire una cosa a memoria ripetere una preghierina a memoria sempre quella e con la nostra mente stiamo pensando a cucinare al lavoro a fare una cosa che abbiamo lasciato in sospeso a pagare le bollette o a fare altre cose quando noi ci concentriamo per pregare Dio tutto il nostro essere deve partecipare tutto tutto il nostro fisico tutta la nostra mente tutto il nostro cuore il nostro spirito tutto noi stessi altrimenti saremo simili ai cattolici non cambia nulla con la bocca anche se diciamo la verità diciamo gloria a Dio gloria a Dio stiamo pensando dopo devo fare questo devo fare quest'altro poi appena finisco devo fare queste cose gloria a Dio con la bocca e con la mente ah devo fare queste cose capite questo non stai partecipando la tua preghiera non sta arrivando da nessuna parte perché non lo stai facendo con il cuore perché Dio vuole il tuo cuore tu devi spandere il tuo cuore i tuoi sentimenti tutto te stesso devi spandere tutto te stesso il tuo cuore davanti a Dio e non solo andare al Signore con la bocca fa del bene a Sion per la tua benevolenza edifica le mura di Gerusalemme allora prenderai piacere in sacrifici di giustizia in olocausti e in vittime arse per intero allora si offriranno giovenchi sul tuo altar e questi sono i due salmi quindi che bisogna considerare il salmo 51 e il salmo 32 per quanto riguarda il peccato ce ne saranno anche altri ma io di solito sono quelli a cui mi rivolgo maggiormente un altro salmo da considerare lo tratteremo in breve il salmo ad esempio 103 ci ricorda che Dio ha avuto misericordia di noi questo salmo me lo ricordo perché Dio ha avuto misericordia di noi e non ci ha trattati come noi meritavamo infatti il salmo 103 dice benedici anima mia l'eterno e tutto quello che in me benedica il nome suo santo benedici anima mia l'eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici egli è quel che ti perdona tutte le tue iniquità che sana tutte le tue infermità che redime la tua vita dalla fossa che ti corona di benignità e di compassioni che sazia di beni la tua bocca che ti fa ringiovanire come l'acquina l'eterno fa giustizia e ragione a tutti quelli che sono oppressi egli fece conoscere a Mosè le sue vie e ai figlioli di Israele le sue opere l'eterno è pietoso è clemente lento all'ira e di gran benignità egli non contende in eterno né serba all'ira sua in perpetuo egli non ci ha trattato secondo i nostri peccati né ci ha retribuiti secondo le nostre iniquità il versetto 10 fratelli volevo concentrarmi qui i concetti sono tanti ogni frase qui si potrebbe lungamente diciamo discutere su ogni frase ma io sul salmo 103 vorrei fare queste considerazioni sul versetto 10 egli non ci ha trattato secondo i nostri peccati sì perché noi secondo la giustizia secondo la giustizia della legge il peccato che noi abbiamo commesso ci doveva portare alla morte noi meritavamo la morte se noi dovevamo essere trattati per le nostre opere ancora oggi ancora oggi che siamo santi che siamo stati santificati che siamo nati di nuovo che siamo stati purificati dai nostri peccati se Dio ci dovesse trattare per le nostre azioni saremo distrutti ma il Dio è misericordioso conosce che noi siamo carne e polvere conosce che noi siamo deboli che combattiamo tutti i giorni contro la nostra inclinazione del corpo a commettere il peccato e vedete come Dio è misericordioso e qui il salmista ricorda appunto che Dio non ci ha trattati secondo i nostri peccati infatti ha avuto misericordia di noi ci ha perdonato i peccati egli ci perdona i peccati noi abbiamo nel cielo Gesù Cristo che è un avvocato presso il Padre che noi invochiamo che noi invochiamo per ottenere il perdono dei peccati egli intercede presso il Padre per noi ed egli ci purifica da ogni peccato noi non veniamo trattati secondo come meritiamo secondo i nostri peccati e le nostre azioni perché perché c'è nel cielo Gesù Cristo l'avvocato il nostro il nostro intercessore la propiziazione per i nostri peccati Gesù è colui che ci rende che fa in modo che noi siamo graditi a Dio non siamo graditi a Dio per le nostre opere ma per amore del suo figliolo Gesù Cristo per il sangue che egli ha sparso per la fiducia che noi abbiamo in Gesù Cristo e nel sacrificio che lui ha compiuto e questa fiducia fratelli che ci tiene sempre legati a Dio è la fede che noi abbiamo in Cristo Gesù nel sacrificio che lui ha compiuto è in Dio è quella fede che non deve mai venire meno solo per questa fede che noi non veniamo trattati come meritiamo è solo per la fede in Dio ecco perché la fede deve essere fortificata ecco perché nella fede noi dobbiamo continuare perseverare sino alla fine perché questa fede che Dio ci ha donato che noi dobbiamo coltivare dobbiamo sviluppare dobbiamo procacciare tutto quello che ci serve per poterci fortificare nella fede perché è questa fede che ci mantiene legati a Dio senza la fede noi non saremo più graditi a Dio infatti è scritto senza fede è impossibile piacergli senza fede è impossibile piacere a Dio ed è per questo che noi non siamo trattati come meriteremo per le nostre azioni per i nostri peccati ma saremmo trattati saremo trattati come gli altri come gli enti senza fede e saremo distrutti come loro egli non ci ha dato quello che meritavamo quindi per le nostre opere ma per mezzo ci guarda egli ci guarda attraverso il sangue di Cristo egli ci guarda per mezzo della fede in Cristo ci guarda come santi ci vede come santi giustificati per fede per mezzo del sangue di Gesù Cristo e vorrei chiudere vorrei chiudere con alcuni passaggi del Salmo 18 Salmo 18 che alcuni passaggi perché è lungo anche il Salmo 18 per dire per dirvi questo quando si è nella distretta quando si è nella difficoltà quando si è in una situazione difficile che talvolta neanche gli uomini ci possano aiutare chi ci può aiutare ci può aiutare l'Eterno quindi egli ci esorta a invocarlo nel giorno della distretta e lui ce ne trerrà fuori infatti dice così io ti amo ho Eterno mia forza l'Eterno è la mia rocca la mia fortezza è il mio liberatore il mio Dio la mia rupe in cui mi rifugio il mio scudo il mio potente salvatore il mio alto ricetto io invocai l'Eterno che degno d'ogni lode e fui salvato dai miei nemici i legami della morte mi avevano circondato i torrenti della distruzione mi avevano spaventato i legami del soggiorno dei morti mi avevano attorniato i lacci della morte mi avevano colto nella mia distretta invocai l'Eterno e gridai al mio Dio egli udì la mia voce dal suo tempio e il mio grido pervenne a lui ai suoi orecchi allora la terra fu scossa e tremò i fondamenti dei monti furono smossi e scrollati perché egli era acceso d'ira un fumo saliva dalle sue nari un fuoco consumante gli usciva dalla bocca e ne procedevano carboni accesi egli abbassò i cieli e discese avendo i piedi una densa caligine sotto i piedi una densa caligine cavalcava sopra un cherubino e volava volava veloce sugli ali del vento aveva fatto delle tenebre la sua stanza nascosta e aveva posto intorno a sé per suo padiglione l'oscurità delle acque le dense nubi dei cieli per lo splendore che lo precedeva le densi nubi si sciolsero con gragnuola e con carboni accesi qui al verso 16 egli distese dall'alto la mano e mi prese mi trasse fuori delle grandi acque mi riscosse dal mio potente nemico e da quelli che mi odiavano perché erano più forti di me essi mi erano piombati addosso nel di della mia calamità ma l'eterno fu il mio sostegno egli mi trasse fuori a largo mi liberò perché mi gradisce vedete fratelli qui vabbè ma tutti salmiano qualcosa veramente che ci insegnano e ci aiutano qui due cose vedete nella mia distretta invocai l'eterno e gridai al mio Dio ed egli lo liberò il salmista nella sua distretta quando tutti l'avevano circondato eserciti volevano la sua morte lui era quasi morto i suoi nemici lo avevano circondato ma cosa fece gridò a Dio e Dio lo liberò quindi quando noi siamo in una distretta quando noi abbiamo una difficoltà quando abbiamo un problema quando qualsiasi cosa qualsiasi cosa noi abbiamo dobbiamo invocare Dio perché Dio che ci libera da ogni nostra distretta è l'eterno l'iddio onnipotente egli vuole che per ogni nostro problema noi andiamo a lui a chiedere liberazione aiuto perché se tu vai a lui a chiedere aiuto vuol dire che ti fidi di lui noi non andiamo a chiedere aiuto a uno di cui non ci fidiamo non abbiamo fiducia in quella persona non è attendibile allora se invece noi ci fidiamo con tutto noi stessi andiamo a chiedere aiuto al Signore andiamo a chiedere aiuto all'iddio vivente vero ed egli cosa fa egli ci libera da ogni distretta ci libera perché egli è buono egli è potente da fare qualsiasi cosa nulla è impossibile al nostro Dio all'eterno che ha fatto i cieli e la terra egli vuole che noi lo invochiamo e chiediamo aiuto a lui e lui ci libererà perché egli non frustra la fiducia che uno ha in lui perché se uno lo invoca perché ha bisogno veramente lo invoca perché crede che Dio possa operare e se tu credi che Dio possa operare in tuo favore sappi che Dio opererà con certezza con certezza senza dubitare egli opererà dandoti ciò di cui hai bisogno se ne hai bisogno ma egli opererà e questa fiducia questa sicurezza questa sicurezza questa certezza che ognuno di noi deve avere invocare Dio anche nelle distrette non invocarlo solo per il peccato non invocarlo solo per ringraziarlo quando ci ha dato qualcosa ma invocarlo anche quando si ha bisogno urgente se è in una situazione veramente difficile di distretta perché egli opera egli opera in favore di coloro che egli gradisce e noi siamo tra quelli che egli gradisce perché l'ha dimostrato già non lo deve dimostrare tutti i giorni che ci gradisce perché anche se poi lo fa perché ha pietà di noi ma perché se ci ha salvati se siamo stati comprati con un caro prezzo come il sangue di Cristo Gesù con il sangue di Gesù siamo stati comprati ma non ha forse mostrato che egli ci gradisce che volete di più e più di questo più del suo figliolo dato al posto nostro per noi ti gradisce o no non basta questo per dire che egli ci gradisce sì e allora riponi lui la tua fiducia totalmente in lui e quando lo invochi sappi che lui ti ascolta è lì perché ti gradisce attenzione però ti gradisce se stai camminando non dico perfettamente perché nessuno è mai passato sulla terra ed ha camminato perfettamente però una cosa è vivere completamente nel peccato un'altra è combattere contro il peccato e caderci ogni tanto una cosa è vivere dentro un pantano di fango un'altra è passare e sporcarsi ogni tanto il vestito di qualche gocciolina di fango sono due cose ben distinte quindi se tu sei nel pantano fangoso sappi che te ne devi uscire se vuoi essere gradito a Dio se invece uno cammina e ogni tanto inciampa sappia che deve chiedere perdono a Dio comunque egli ti gradisce e con questo fratelli vi esorto quindi a perseverare nella preghiera a aiutarvi con le scritture a imparare a pregare anche servendovi dei salmi in base all'occasione in base alle vostre necessità conoscendo le scritture potete rivolgervi ai passi che vi servono perché il Signore ascolta le preghiere dei giusti ascolta le preghiere di quelli che egli gradisce e i suoi figlioli sono tra le persone che egli gradisce e non si tira indietro il Signore può fare ogni cosa quindi fratelli vi esorto a perseverare nella preghiera e a non stare sempre in preghiera solo 5 minuti o 10 minuti ma imparare sviluppare una preghiera che dura un po' di più quindi organizzate organizzate ognuno non c'è una formula esatta precisa perfetta che uno possa dare fai così di tutte queste parole perché ogni preghiera è diversa dall'altra quindi voi imparate tutti i tipi di preghiere che ci sono nella scrittura per imparare a pregare leggete gli altri per poter imparare voi a pregare e vedrete che dopo con una vita di preghiera fratelli crescerà tutto in voi spiritualmente crescerete notevolmente perché in preghiera in comunione con Dio che si cresce spiritualmente e questa era oggi la mia esortazione nei vostri confronti affinché impariate a pregare e perseveriate nella preghiera a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amén grazie a tutti